Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, bentornati per quelli che mi seguono già. Riprendiamo con i video, oggi volevo mostrarvi un'idea autunnale. Partiamo subito, ci serve un pezzettino di feltro grosso 3 mm, sto utilizzando il colore avorio, dimensione 11x7. Con l'aiuto di una penna arrotoliamo su se stesso e fissiamo con la colla. Procedo. Secondo, siccome deve fare presa, io l'ho già preparato. Otterremo così questa sorta di tubicino, questo qui lo sposto. Seconda cosa, un po' di pannolenci giallo colore mais, e qui già vi sto dando un piccolo indizio. Allora, è una striscia lunga, 70 cm e 5 cm di altezza. Andiamo a fare una cosa di questo tipo, dovremo ripiegarla tutta su se stessa, bloccandola con la colla. Adesso io faccio un pezzettino, perché poi l'ho già preparata per risparmiare un po' di tempo. Andate avanti, me la incollate tutta quanta. In questo modo, fino alla fine. Parte chiusa verso il basso. Andiamo a fare degli intagli, fino a quando sentite la colla, di circa 7 mm. È indicativo, ovviamente, giusto per dare anche un'armonia, poi, una volta che l'avremo fatta tutta. Ecco qua, molto semplicemente. Io l'ho già preparata. Sposto questa, che non ci serve più. Pronta, incollata e con intagli. Andiamo a togliere, adesso, circa 6,5 cm. Misuro. Ovviamente vado a tagliare nell'intaglio, ecco, senza dividerlo. Perfetto. Partiamo con questo pezzettino. Arrotoliamo su se stesso e blocchiamo con la colla. Perfetto. Andremo ad incollarlo davanti, in questo modo, sul nostro tubicino. Procedo. Adesso dovremo andare ad arrotolare la nostra striscia lunga gialla tutta intorno. In questo modo. Quindi io parto. Blocco l'inizio. Avrete capito che andiamo a creare una sorta di pannocchia in pannolenci. Ecco qua, che non ho fatto presa. Procedo. E vado a rivestire. Stringete anche man mano. Adesso io non metterò la colla dappertutto. Ma all'inizio e alla fine. Andiamo avanti. Con i 70 centimetri arriverete quasi quasi alla fine. Rimarrà fuori un po' di gambo. L'ho fatto volutamente. Perché altrimenti avremmo dovuto fare una misura tipo 72, 73, 75 centimetri. E ho detto ma sì, tanto poi lo ricopriamo con le foglie. Va bene così. Benissimo. Avrete capito che abbiamo creato velocissimamente una sorta di pannocchia. passiamo alla foglia. Ci serve un po' di pannolenci. Pannolenci. Sto utilizzando il verde già da nuvolato. Allora è una striscia 27x7. La pieghiamo a metà. Parte chiusa verso il basso. A mano libera, molto semplicemente, ritagliamo la forma di una foglia. Che poi ovviamente uscirà doppia. Torno giù. E stringo. Ecco qua. Una doppia foglia. Piccolo trucchetto. Dunque, dovremo andare a fare una cosa di questo tipo. Innanzitutto copriamo poi il bianco, insomma la base, con la foglia. Io adesso metterò un po' di colla qui sopra. Vi faccio vedere. Poi se siete pignole e volete fare, volete ricoprirlo tutto perfettamente, aggiungete un po' insomma di centimetri, ecco. Blocchiamo il tutto così. E poi dopo andiamo a stringere in questo modo la nostra foglia. per fare effetto proprio al pannocchio. Non so se avete presente che le foglie sono proprio fatte così. Teniamo premuto. Da questo lato ovviamente si è coperto tutto, quindi non si vede più il beige. Qui poi ci andrà la decorazione, quindi comunque abbiamo risolto il nostro problema. Benissimo. Ci siamo. Adesso, prima di procedere, io ho già preparato un fiorellino che non è altro che Fior Annabelle, versione pannolenci, ridotto, più piccolino. E il petalo, precisamente, misura 2,5 x 2,5, ricavato quindi da un cuoricino circa 2,5 x 3,5. Comunque vi lascio il link relativo qui sotto nell'info box per andare a riguardarvi il tutorial. Quindi anche, come potete vedere, in pannolenci viene molto carino il fior Annabelle. Andiamo ad aggiungere i pistilli per farlo assomigliare, diciamo così, ad un papavero. Prendo un pezzettino di panno nero, circa 2 x 1. Faccio dei piccoli tagli fino a 3 quarti. Ecco, potete vedere. Arrotolo, blocco con la colla. Vi ricordo, come al solito, che trovate tutte le misure e i riferimenti qui sotto nell'info box, mentre i materiali che utilizzo sul nostro sito è il diamanteshop.com. Perfetto, i pistilli sono pronti. Incolliamo al centro per dare, appunto, l'effetto papavero. Eccoci qua. Facciamo far presa. Allora, ci serve un po' di raffia. Sto utilizzando il colore beige. Sono tre spezzoni, adesso vi spiego subito. circa 33 centimetri. Andiamo a legarli intorno al gambo e facciamo un nodo. Ecco qua. circa 25 centimetri li sfilacciamo dividendoli in tanti piccoli filetti. Tengo un attimo da parte. 50 centimetri, invece, li ripieghiamo a fiocco in questo modo. Prendo il mio fiocco. Prendo i filetti, li metto dietro, annodo il tutto con la raffia che mi ero tenuta sul gambo. L'effetto è questo. Adesso qui potete fare un altro fiocco o comunque tagliare via quello che volete. Apriamo il tutto anche nella parte del fiocco. quindi sfiliamo la raffia. Qui la rifiliamo ancora un po'. Come potete vedere è leggermente da un lato. Vado a applicare il mio fiore in questo punto. ecco qua. E' una piccola cucinella di legno e la mia pannocchia direi che è pronta. la cucinella la cucinella potete metterla sulla foglia sul fiocco dove preferite insomma adesso io l'applico giusto così sulla foglia. Ecco qua. Qui diamo anche un punto di colla per bloccare bene il verde sulla nostra pannocchia. e direi che è terminata. Sistemiamo questa a posto. Adesso io ho già preparato anche altri esempi altri colori come al solito che sono venuti un po' più precisi rispetto a questa perché poi sono super mega pignola. ecco qua questo ha il papavero tipo bordeaux con la raffia colore corda una versione un po' particolare con il fiore blu scuro ecco qui e poi riprendendo sempre il classico rosso e bordeaux. Bene ragazzi spero che vi sia piaciuta la mia idea ovviamente vi farò vedere anche come utilizzarle comunque qualche spunto potrebbe essere ghirlande fuori porta centri tavola d'appoggio quindi perché no dove più vi pare insomma ecco direi che sono molto molto utilizzabili ah una cosa che dimenticavo non sono giganti non sono neanche mini sono un 17 cm di lunghezza quindi direi che sono ben utilizzabili grazie mille per aver guardato il video ciao a tutti e alla prossima